Salve a tutti, sono Rita Palange, studio al Conservatorio, il mio strumento è il pianoforte e sono al stesso anno per accademico. Il mio maestro è Roberto Parrozzani e oggi, come potete vedere, vi farò ascoltare la rete di Claude Bussi. Buon ascolto! 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 Spero che il brano sia stato di vostro gradimento. Colgo l'occasione per ringraziare il maestro Roberto Parrozzani, che ha da poco ottenuto il trasferimento, quindi quest'anno non sarà più con noi, e lo ringrazio non solo per i sei anni di docenza con lui, un'esperienza formativa e veramente bellissima, ma soprattutto per quest'iniziativa del Music Free Space che lui ha messo su, che ci ha permesso di provare l'emozione del live, cosa alla quale noi studenti non siamo molto abituati, perché suoniamo solamente per gli esami oppure per i saggi. Quindi mi auguro che questa iniziativa possa continuare, e maestro non si dimentichi di noi, e tanti auguri per la sua nuova esperienza.